Ci mostrano i dettagli di questo secondo round Quando al via Cosima C'è di nuovo l'Italia e la nostra Giulia Martinengo Marchè Con Fine Edition, castrone di 10 anni Hannoveraner Figlio di 4 Edition, perdon, Juan Lei è una partita con un errore all'uno Poi è un giro, un calo impegnativo sicuramente questo Si muove un po' la barriera del 3 E qua c'è un errore 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7 tempo per la doppia gabbia Riesce bene, è facile Un po' la pressione, pallo attento, salto Sempre con un occhio pronto a dare un'occhiata a quello che c'è la riviera 5, 6, 7 E adesso la girata, per l'ultimo salto Prima ho l'incertezza in questo dietro front Adesso è molto attenta Giulia e vai a chiudere con 4 Migliorata anche Giulia Riesce